ho fatto un volo di strassarvi che era molto ferdi allora pensavamo di subito in forma di malattia andiamo a 20 centri con pompi andiamo a rompondi, facciamo una cosa tra e poi non lo so poi non lo so appena avuto la cosa scusa poi facciamo un più l'ultimo rullo e non lo so e non lo so e non lo so